domanda di fatto come posso portare la pace nel mondo brava bisogna infatti primo ministro no veramente dice come posso farlo come nel lavoro giornaliero come posso portare la pace a 7 miliardi persone siamo molto pochi non sei tu che non fa quel che fai questo dicerà io non capisco tu ma tu hai parlato del bottone rosso se qualcuno lo schiaccia tu puoi portare un anche un bambino che schiaccia questo bottone che ci sarà un'esplosione nel mondo intero così è come di fare tu devi aprire il condotto per la luce superiore e che la luce faccia tutto il lavoro come lo farà non è il tuo problema tu unicamente devi sapere come aprire aprire il tappo che sei tu e che attraverso di te la luce superiore possa andare a tutta l'umanità e come lo apri per il tuo amore verso tutta l'umanità tu apri il tuo cuore a tutta l'umanità e tutti connetti con il tuo cuore che li ami alla luce che è la natura della luce quindi la luce passa attraverso di te a tutta l'umanità e fa quello che deve fare domanda quindi tutto il congresso di gribilio se dopo ad arava in febbraio qual è questa apertura che si apre nel mondo intero se questa è l'unica cosa che può portare la pace nel mondo e i congressi io non sto dicendo i congressi dice la luce io dico attraverso il cuore che attraverso le nostre qualità emozioni la luce potrà potrà passare al mondo intero e potrà correggerlo e tu nella misura che lo fai che il mondo sarà corretto questo ritornerà a te con una risposta verso di te che tu anche riceverai la stessa forma di tutto il mondo non prima non prima di loro e non in un'altra maniera ma unicamente perché il mondo lo riceve da te allora tu lo riceverai e questo veramente è una relazione tra il creatore e il mondo molto semplice perché l'inferiore il superiore quello che è sopra il superiore tu sei nel mezzo e tu devi tu devi avere fiducia nel creatore che passerà attraverso di te al mondo questa è la tua funzione